buongiorno sono giannicola di gruppo carmeli ed oggi vi presenterò questa piccola ibrida di casa fiat si tratta di una 500 mille hybrid sport da 70 cavalli chilometro zero nel colore bordeaux opera all'esterno troviamo particolari come gli specchietti ed i cerchi in lega da 15 pollici in colore titanio satinato con la logatura rossa stesso abbinamento viene proposto all'interno sulla plancia la dotazione viene completata da fendinebbia sensori di parcheggio posteriori e luci diurne led per migliorare il comfort interno troviamo climatizzatore automatico monitor hd connect da 7 pollici per la gestione di chiamate messaggi e navigazione tramite il sistema android auto ed apple carplay il sensore di luci e pioggia ed il cruise control dietro al volante multifunzione in pelle troviamo il monitor tft da 7 pollici per avere tutto sotto controllo l'auto è disponibile anche in altri colori ad un prezzo con promo gruppo carmeli di euro 11.980 partendo da un prezzo di destino di 18.500 euro se il video ti è piaciuto lascia un commento qui sotto o chiamaci allo 030 7724 011 i nostri consulenti saranno a tua disposizione